Si chiama Catherine Rice-Hale, è una giovane modella, ma anche una maestra del sesso, una sorta di professoressa, una coach americana e di New York. Fa dei contenuti molto espliciti, ma anche e soprattutto su Instagram mette infatti un sacco di consigli sentimentali per i tantissimi follower che la seguono. Catherine tra l'altro ha fatto sapere in una delle richieste più insolite che riceve, è di legarsi a casa sua, pulirle l'appartamento perché da questa pratica avrebbero un piacere sessuale immenso barra totale. La donna infatti ha spiegato che una delle fantasie più grandi che gli uomini le vanno letteralmente a manifestare apertamente sui social è quella di andare a casa sua di Catherine Rice-Hale e pulirle la casa. Sui siti incontri la donna di Chiara ha incontrato uomini con gusti piuttosto strani, infatti alcuni addirittura hanno liberato a loro, a lei, che la compagna sia infedele e quindi li fa eccitare e vive una razione più coinvolgente di così. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, una buona sera da voi.